Dopo due cinquine di fila rifilate agli avversari, il Rimini si libera dall'ostacolo Bellaria. Col sole si fa per dire tre reti al passivo. La gara mette i vetri nei nuovi innesti in casa bianco-rosso aggiunti nel mercato invernale. Abdul su tutti pare un frecciarossa, mentre Valori dimostra di avere l'istinto di un vero bomber che con Buonaventura per questa categoria forma una coppia offensiva devastante. E con il richiuto operativo solo in parte c'è da divertirsi, dato che in mostra si mettono giovani come Scott Arlotti, ancora una volta in gol. I tifosi invece sfidano il freddo e arrivano nella vicina a Bellaria ricordando il sapore delle sfide andate quando le due formazioni due lavano sui campi di Serie D e di Lega Pro. Appena è tempo di accendere la luce che il Bellaria prova a insinuare la porta di Scotti con il delicato che sbaglia il controllo quando è lanciato a rete. Dall'altra parte uno sbagliore di Merendon mette nelle condizioni i valori di recuperare la sfera di servire Signorini cui tiro viene sventato dallo stesso portiere bellariese, ma tutto viene risolvato per la posizione irregolare proprio dei Signorini. In una settimana italiana dedicata al mito Maradona, Balori peggia di tramutare in gol l'assist di Signorini aiutandosi prima con la mano e poi con la gamba che proietta il pallone in fondo al sacco. Arriva così per lui il cartellino giallo. Sull'asse di destra il rivini continua ad essere pericoloso. Cicarevic si traveste da Signorini, crossa al centro, ma Arlotti arriva in ritardo all'appuntamento. A quarto d'ora, episodio invece da Moviola. Arlotti andrebbe a bersaglio, ma in guardalina di destra una certa signora canale ritiene la posizione dell'attaccante di offside e dunque rete annullata. Il Rimini gioca in soltezza e arriva facilmente al tiro con Valori, ma in questo caso è la mano di Renzi a negare la gioia all'attaccante bianco-rosso. L'arbitro in questo caso sorvola ancora una volta. Segnali di presenza di Bellare che con il suo uomo di maggior spessore indelicato va al traversone per Di Filippo che però non c'entra la porta. Prima della mezz'ora il Rimini trova meritatamente in vantaggio. Abdul, i migliori dei suoi, prende fiato, coraggio ed emulando i migliori giocatori di biliardo stecca con precisione un diagonale aggolato e vincente, andando così in buca. Gioia enorme per l'ex Meldola e soprattutto prima consacrazione con la maglia bianco-rossa, l'abbraccio dei compagni e ripetuti festeggiamenti, anche scherzosi, non potevano assolutamente mancare. Ma la fame degli ospiti non si ferma qui. Signorini in escavalori che in dialogo con Ciccare dice che batta al volo, ma Merendon si supera nella risposta. L'offensiva bianco-rossa non smette di pungere quando Righini, sul fine di più a tempo, viene fermato così dalla retroguarda di casa, ma in cambio riceve una munizione per simulazione. Ma il tempo di divertirsi sembrano finire per Abdul, che supera gli avversari come dei birilli e va vicinissimo al raddoppio. Finale di primo tempo con un tiro centrale di Valeriani bloccato senza problemi da Merendon. Seconda parte di gara che ha inizio con il botto per i Rimini, e che trova un 1-2 micidiale prima con l'incursione di Abdul, premiata dal gruppo di terza vincente di Valori, che promette di arrivare in doppia cifra. Ho fatti 3 e più 1 in Coppa, spero di arrivare almeno a 10 gol. E poi, da Scott Arlotti, che dopo essersi visto annullato la rete nel primo tempo, si regala l'ennesima gioia di stagione, dimenticando presto quello che è successo precedentemente. Dal campo a me sembrava buono, quindi anche i miei compagni mi hanno detto che era buono, però ne ho fatto un altro. Da una rimessa laterale, Abdul mette starita nelle condizioni di rischiare una possibile autorete, ma fortunatamente per lui la sfera si alza sopra la traversa. Valori si ricorda che nell'88 Van Basten fece un gol impossibile da tutt'altra parte, ma purtroppo per lui la TV fa male. Ibelair tira fuori l'orgoglio, indelicato, va alla battuta, ma in questo caso dimostra avere proprio poca delicatezza con il pallone. È il tempo, dunque, di vedere Richiuti che entra proprio sotto la sciarpata bianco-rossa, e lo spettacolo si accende ancora di più, quando l'argentino si intestandisse, decidendo che alla festa vuole partecipare anche lui, ma prima il pallonetto e successivamente un duetto con Allotti lo portano sia alla conclusione, ma senza trovare il bersaglio. Lighini, nel mezzo, cecca la porta, Merendon risponde presente prima che la partita si chiuda con l'ennesima offensiva guidata da Richiuti con il pallone che si spegne sul fondo. 3-0 e anche un pignolo come Mastro Nicola può sorridere poiché stanno al suo calcio nella prima partita di campionato in questo 2017, il Rimini non prende gol, mentre loro continuano a godere, a festeggiare e a sventolare orgogliosi le loro sarpe, manca a dirlo, bianco e rosse.